Sono 5 del mattino, oltre che i poliziotti che fanno due valli tutta la notte. Quanto è un po' questa situazione è anomala, la sono liberata. Non so se si vedrà, vedete che nascono esergenti. E poi anche a nord la andata. Adesso si faccia un bustone. Questa ora l'avrà, faccia un bustone a questo. E' un altro. Avrò un nuovo negozio. Non si può dire nemmeno che ha staccato il lavoro. Finalmente si attacca alle 7. Chi fa il torno di notte o alle 6. Si attacca e guarda. Vediamo un po' che rappresentano queste lingue. Le sallebbrate. 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 Vabbè, no, non si sa nemmeno più. Le Marche. Io penso adesso per le Marche. Piamignano. Ciccolano, la matrice. Le Marche. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info